Dolcetto e scherzetto Perfetto, intanto presentatemi, come vi chiamate? Valentina Quandariene, questa almeno E cosa state facendo oggi in attesa di Halloween? Mi sentiamo che mi diamo le cani Ah, quindi Dolcetto e Scherzetto Ma è una minaccia o cosa? No, io adesso più, ti metti mezzo Quindi andate dai vigili di casa e chiedete E chiedete Cosa chiedete? Dessere, dessere, dessere E ma siete da solo o andate a provare? E non vi... E non ci sono altri amici che fanno questo scherzetto? E a scuola avete fatto delle iniziative per questa... No, no E come lo ricordate il giorno dei punti iniziativa a scuola? Fanno delle iniziative o no? No No, perché stiamo scherzetto Il tema è... Il tema sui dei punti o su Halloween? No, sui dei punti E a scuola non ballano su Halloween? No, no Sono in inglese Ah, sono in inglese Lo sapete cosa è la festa di Halloween? Una festa pagata E cosa ti fa? No, è che tu gli aspetti Oh, è che tu gli aspetti? Oh, è che tu gli aspetti? Ma chi? Ah, ma vedete che mi face solo la caramella che avete raccolto? Sì, sì Eh, tante Ma come fa? Ma che... Ma che mi finisce? Ma che mi finisce? E ancora dovete proteggere il giro? Sì, sì Ma perché la zucca? Sapete perché è questo simbolo? Non c'è tutto scherzetto